Ci sono ancora 15 giorni, fino al 10 maggio, per partecipare alla grande mostra, da cui ho molto m'aspetto, alla Casa delle Regole a Cortina Lampezzo, nel Museo Rimoldi, in dialogo con i grandi dipinti del Novecento di Rimoldi, Paesaggi d'Italia. Una mostra che ci indica come voi vedete l'Italia, come voi vedete il paesaggio salvato, preservato o umiliato, come voi vedete l'orrore delle paleoliche che distruggono i paesaggi più belli e remoti d'Italia e come voi vedete paesaggi intatti, come voi vedete i paesaggi interiori, anche gli stati d'animo. Questa mostra, Paesaggi d'Italia, è un'iniziativa che io ho portato a stato più avanzato dopo la prima edizione di Recanati e continua a Cortina, e avete fino al 10 maggio tempo per presentare i vostri elaborati, nella Casa delle Regole, collezione Museo Rimoldi, un bellissimo museo dove già natura e paesaggio sono rappresentati nelle pitture. A voi tocca, nella pittura e nella fotografia, mostrare a che punto siamo con il paesaggio in Italia, come esso è preservato, come esso è violentato.